Per uscire da questa stanza maledetta dovrai trovare tutti gli indovinelli e i bigliettini e quando avrai trovato la chiave d'uscita potrai andartene Cosa significa? Un bigliettino! Leggiamolo Sono giallo e brillante Mi puoi vincere Cosa c'è che posso vincere di giallo e brillante? Ma certo l'Oscar! Ecco un bigliettino Apriamolo Posso contenere un liquido? Sono medio e nero Cosa c'è di medio e nero? Ma certo la tazza! Vediamo cosa c'è Un bigliettino Sono un contenitore Forse quadrato o rotondo? Un contenitore forse quadrato o rotondo? Eccolo! Vediamo Un po' Cosa c'è Sono calda e Mi usi per dormire Cosa c'è di caldo che usi per dormire? Allora Vediamo se c'è qualcosa di fuori Ma vuoi far passare? Deve essere la volta d'uscita questa No Questo gambiole Buono lo uso da dormire Sotto la pokemon Non c'è sotto il ventilatore Non c'è sotto il ventilatore neanche Cosa c'è Qua c'è Qua c'è No Magari qua Lo vedete? Eccolo! Un altro bigliettino Un altro bigliettino Già 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 Grazie.